Continuità e affidabilità sono i due cardini su cui il Gravina sta fondando la Rosa al lavoro nel ritiro di cascia in Umbria agli ordini di mister Valeriano Loseto. Vanno letti in quest'ottica gli ultimi due innesti in organico, Giuseppe Bozzi e Diego Alvarez Arguelles in arte prosi. Il primo, centravanti originario di Bari, classe 1987 vanta una lunga carriera calcistica tra formazioni pugliesi e lucane. Tra le altre ha vestito anche le maglie di Gelbison, Madre Pietradauna, Manfredonia, Martina e Lecce. Porta in dote, esperienza e centimetri a un attacco che ha perso per strada Michele Scaringella, che ha preferito cimentarsi in un'esperienza con la Serie D al nord e che punta forte su Domenico Santoro come riferimento per gli schemi offensivi giallo-blu. Prosi avrà invece il compito di garantire qualità e tempi al centrocampo di Mister Loseto, sin qui arricchito dai muscoli di Gogovski, Nbidae e Barbato, ma bisognoso di un playmaker. Individuato nello spagnolo classe 1988, formato nella cantera del Real Madrid e che ha trascorso gran parte della sua carriera nella Serie C spagnola, vestendo anche le maglie di Oviedo, Salamanca e Pontevedra. Prosi, utilizzato già nell'amichevole contro il Flaminia, si sta lentamente prendendo il Gravina giorno dopo giorno e subentrato in un organico fondato su garanzie come l'Oliva, Romeo e Chiaradia, innesti di esperienza quali D'Angelo, Silletti e Ficara e tanti under vogliosi di mettersi in mostra, da Basta a Baffin fino alla Rosa, Greco e di Modugno. I prossimi obiettivi alla voce mercato sono proprio nel pacchetto dei giovanissimi. I denti kit affamati e bisognosi di migliorarsi come il Gravina 2019-2020.